Gianni la malattia e adesso la guarigione come hanno cambiato la tua vita questa sofferenza mi ha avvicinato di più a Cristo come dice Paolo quando sono debole è che sono più forte quindi la fragilità anche fisica la fragilità anche emotiva perché l'ictus poi ha toccato anche tutto è fatto delle emozioni delle emotività eccetera quindi ho dovuto ricalibrare tutto e questo mi ha colpito molto e mi ha dato più profondità e anche io lo vedo anche quando quando parlo con qualcuno sento che queste parole che racconto le ho vissute nella carne cioè questa sofferenza questa croce l'ho vissuta proprio in prima persona